Nei video precedenti abbiamo appreso le nozioni di base per applicare forze agli oggetti del gioco. Oggi inizieremo ad applicare quanto appreso per gestire una delle meccaniche tipiche dei giochi e soprattutto dei first person shooter. Stiamo parlando ovviamente di shoot, sparare, buona visione. Fino ad ora abbiamo utilizzato un modello 3D importato, però ho capito che il fucile era orientato in modo non ottimale, per cui per evitare problemi di qualunque tipo preferisco costruirmi una specie di bozza di arma da zero e avere la certezza che tutti gli assi siano lineati come si deve. La forma sarà, come si diceva, estremamente stilizzata. Parto da un cubo, quindi create other game object, create other cube, poi lo stiro, quindi clicca su questo bottone ed andremo adesso a agire sui controlli che permettono di deformare l'oggetto lungo uno dei tre assi. Probabilmente poi dovremo aggiustarlo quando lo avremo messo in posizione. Ok, questa diventerà in pratica la canna della nostra doppietta. E chiamiamola proprio così, dai, anche se poi probabilmente le faremo sparare dei proiettili un po' strani. Ora, da Kito verrebbe da aggiungere nella gerarchia sotto il first-person controller direttamente la nostra doppietta, la nostra arma. Però ho visto diversi esempi in cui consigliano di aggiungere un oggetto anonimo che faccia da contenitore per le armi, in modo che poi volessi più semplice gestirli. E farò così questa volta. Per cui vado a creare un object anonimo, create empty. Lo chiamo contenitore armi e lo associo alla main camera, quindi lo sposto qui nello hierarchy, lo trascino su main camera. Adesso per allinearli un pochino posso prendere il first-person controller, allineare la view con il first-person controller, siamo qui, e adesso invece prendere il contenitore e allinearlo con la view. Ecco. spostiamo un pochino avanti. Perfetto. Questo è solo per pulizia estetica. Allineare invece con il first-person controller l'arma è essenziale. Ripetiamo. Prendiamo il first-person controller, allineiamo la view con l'oggetto selezionato, facciamo poi clic sulla doppietta e comandiamo alla doppietta di allinearsi con la vista. Risultato, first-person controller e doppietta sono adesso allineati. Questo però è un cannone, non è una doppietta. Scaliamolo un po', allora, forse è convenio a fare fin da subito da qui, tipo un 0.2, 0.2, 1, ok. Ora, in modo da poter vedere l'arma e giochiamo un po' con l'asse Z e poi con l'asse Y e inserite anche la doppietta nella gerarchia del first-person controller, ma dentro il contenitore d'aria. Diamo un'occhiata come si vede con la main camera. No, direi che ancora no. Ecco, questa posizione va abbastanza bene, penso. Andiamo a dare un'occhiata. Va bene. Una signora doppietta, direi. Dunque, d'occhio penso convenga anche disabilitare sulla canna il collider, altrimenti quando poi spariamo una minima interferenza farebbe capitare qualcosa di poco carino al proiettile, penso. E rendiamolo un minimo carino, dai. Quindi andiamo sul mesh renderer, bolla di sapone, arma futuristica, bellissima, un'arma d'energia. Per il proiettile non roviniamoci la fantasia, una bella sfera e per il momento lasciamola così, lo so che è esageratamente grossa, ma renderà più facile capire quello che succede alla dinamica dei proiettili. Beh, arma aliena, arma tecno, mettiamogli almeno texture adeguata. Direi che va bene. Non potevamo aspettarci di meno da un'arma al plasma. Ma al di là dell'estetica, è più importante aggiungere la componente rigid body, altrimenti ciao ciao forze. E ci siamo. Qual è l'idea di fondo? Che non è l'unica praticabile, intendiamoci. Associare uno script all'arma, in modo che premendo uno dei tasti di fuoco, istanzi un esemplare del proiettile. Però a questo punto conviene trasformare questo oggetto in un cosiddetto prefab, perché il prefab può anche non esistere nell'aria, come in questo momento il proiettile, ed essere creato al volo e messo in un punto qualsiasi della scena. E dopodiché andremo a giocare con forza e quant'altro. Scegliete una cartella, io ho scelto prefabs weapons, dato che dobbiamo creare appunto qualcosa che ha a che fare con le armi. Col clic destro, create prefab, chiamiamolo proiettile. Ed è meglio chiamare proiettile anche la sfera, dai. Per creare il prefab, trascinate dalla vista Hierarchy il proiettile qua. Adesso cancellate l'oggetto della scena e siamo pronti per creare lo script. Aggiungetelo anche qui dove volete, io l'ho aggiunto qua, vicino al prefab, anche se forse è più corretto tenere una cartelletta con gli script, d'accordo, non siamo ancora a quel livello. Lo script, chiamato proiettile, è questo. Questa è la variabile pubblica, tipo game object, che conterrà riferimento al proiettile da creare. Ma quando è che verrà stabilito qual è veramente questo proiettile? Tra poco aggiungeremo come componente script questo script alla doppietta e nell'inspector vedremo proprio questa variabile pubblica apparire come casellina in cui potremmo al limite scriverci dentro. Ma noi andremo a trascinare invece il prefab del proiettile su questa casellina ed è lì che si stabilirà il contatto, l'aggancio tra questo proiettile che ora è null e l'oggetto che verrà usato nel metodo update qui sotto. Attenzione, il proiettile potrebbe essere e sarà nel nostro caso un'istanza di questo prefab. Potremmo mettere anche un prefab di qualunque altro tipo. Lo script vuole semplicemente conoscere di che oggetto deve fare un clone, perché ogni proiettile sarà un clone dello stesso tipo di prefab. Il clone verrà creato naturalmente quando si va a schiacciare ad usare il tasto di fuoco, che ho usato la forma semplificata input get button invece di passare per gli axis. La clonazione è abbastanza semplice, sfrutta il metodo instantiate, questo proiettile e questo proiettile, è chiaro che adesso non avrebbe senso perché andrebbe a clonare nulla. Anzi, magari avremo anche qualche problema in esecuzione. dovremmo dire in che posizione e con che disposizione di rotazione degli assi creare l'oggetto. L'idea è quella di dare la stessa posizione della canna del fucile. Il riferimento a transform, così senza farlo precedere da nessun preciso riferimento ad un oggetto, implica che lo stiamo riferendo all'oggetto per il quale lo script è in via d'esecuzione, quindi sarà la doppietta, perché associeremo come componente questo script proprio a quell'oggetto. E del suo transform usiamo il vector 3 position, cioè la sua posizione, che è uno dei tre parametri che richiede l'instance qual è l'oggetto, in che posizione metterlo e con che rotazione degli assi. Attenzione a specificare questo cast perché il metodo restituisce un generico object. Vedete? Object. Dobbiamo dirgli che si tratta di un game object. Salvate. Dobbiamo associare lo script all'arma, la doppietta. prendete qua lo script, è uno dei modi, e trascinatelo, dopo aver ovviamente già selezionato qui la doppietta, su doppietta. Notate come la variabile proiettile venga esposta in quanto pubblica, come se fosse un parametro qua nell'inspector. None, infatti di là c'è null. Dobbiamo dire lo script qual è l'oggetto da clonare quando si fa fuoco. Facile, no? ora. Prendiamo il nostro prefab e lo trasciniamo qui, nell'inspector, nella casellina proiettile. Siamo pronti per sparacchiare. Certamente il risultato è ancora lontano da un vero sparo, ma non è male. E vabbè, fosse un gioco per bimbi, potrebbe anche starci. Ci fermiamo qui. Sperimentate un po', litigateci. La prossima volta vedremo di renderla più simile a un'arma vera e propria.